Se passa la nostra riforma presidenziale, Mattarella deve dimettersi. E bufera politica dopo le parole di Silvio Berlusconi di questa mattina. Tutto il centro-sinistra insorge dopo aver fatto dimettere Draghi. Vogliono cacciare anche il capo dello Stato. Non ho mai attaccato Mattarella, ne chiese le sue dimissioni e la precisazione del leader di Forza Italia. Ma la nuova polemica incendia il clima di una campagna elettorale ancora agli inizi. Al Viminale alle 8 di questa mattina è iniziata la processione dei rappresentanti dei partiti per il deposito dei simboli elettorali. Ora la sfida per i leader politici sarà la composizione delle liste complicata dalla riforma costituzionale che ha ridotto sensibilmente le opportunità di venire eletti. Rimane alto l'allarme per la centrale nucleare di Zaporigia. Nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si è proposto a capo di una missione per valutare i reali rischi. Mosca avverte la centrale non può essere restituita, gli ucraini non sono in grado di garantirne la sicurezza. Arriva oggi in Italia il primo cargo con Mais da Odessa. Nuovi temporali aggravano la situazione in molte regioni italiane. Disagi e danni in Sardegna, in Calabria fuori uso alcuni acquedotti, distrutto un piccolo borgo a Scilla. A Stromboli i fiumi di fango hanno invaso le strade. In Campania allerta gialla fino a domani per rischio idrogeologico. Una mareggiata fuori stagione ha scavato un gradino di 70 centimetri sulla spiaggia di Jesolo. Tentativo di rapina in stile soliti ignoti a Roma. Dimesso oggi dall'ospedale l'uomo che ieri è stato salvato dal crollo di un tunnel scavato 6 metri sottoterra. L'ipotesi è il tentativo di rapina e danni di due banche nelle vicinanze. Sarà ascoltato nei prossimi giorni due dei complici arrestati per resistenza pubblico ufficiale rilasciati oggi a piede libero e indagati. Italia subito protagonista, gli europei di nuoto in corso a Roma. Gli azzurri hanno chiuso in testa al medagliere la prima giornata con quattro podi. Razzetti e Matteazzi hanno vinto rispettivamente oro e bronzo nei 400 misti. Due medaglie d'argento sono arrivate dai ragazzi della 4x200 stile libero e nel nuoto sincronizzato tecnico a squadra femminile. E dalle 10 finale in programma oggi possono arrivare altre buone notizie. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della 7. Allora, naturalmente iniziamo subito dalla politica perché a 44 giorni dalle elezioni del 25 settembre i toni della campagna elettorale si fanno sempre più accesi. Sono numerose le reazioni anche vehementi alle parole di Silvio Berlusconi circa la possibilità di una riforma presidenziale che secondo l'ex primo ministro significherebbe le dimissioni dell'attuale presidente Sergio Mattarella. Una riforma che potrebbe accadere con i due terzi a disposizione eventualmente del centrodestra in Parlamento. Allora cominciamo da qui. Dalle elezioni diretta del capo dello Stato alla flat tax Silvio Berlusconi rilancia i punti programmatici del centrodestra ma scivola sul presidenzialismo tirando dentro l'attuale capo dello Stato. Se entrasse in vigore la riforma Mattarella dovrebbe dimettersi afferma stamani a Radio Capital poi magari potrebbe essere rieletto, aggiunge il Cavaliere ma la gaffa è fatta. Se entrasse in vigore questa riforma penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare all'elezione diretta di un nuovo presidente che guarda caso potrebbe essere ancora lui. Il presidenzialismo è un sistema perfettamente democratico afferma Berlusconi che poi esclude nel modo più assoluto di ambire alla presidenza del Senato. Le parole del fondatore di Forza Italia appaiono subito una caduta di stile, uno sgarbo a Mattarella tanto che in tarda mattinata è costretto alla precisazione non ho mai attaccato Mattarella né mai ne ho chiesto le dimissioni argomenta Berlusconi ho solo spiegato come potrebbe funzionare il presidenzialismo proposto nel programma del centrodestra prima di procedere all'elezione diretta del nuovo capo dello Stato in caso di riforma approvata sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella tutto questo accade all'indomani delle polemiche sulla fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d'Italia con la leader Giorgia Meloni che archivia il fascismo ma non rimuove quel richiamo al movimento sociale italiano dal PD il segretario Enrico Letta è durissimo con Berlusconi e il centrodestra se oggi c'è un punto di unità nel paese il capo dello Stato e ora giunge dopo aver fatto cadere Draghi vogliono far dimettere Mattarella la destra dimostra quanto sia pericolosa per l'Italia conclude Letta con le parole di Berlusconi il centrodestra ha calato la maschera scrive sui social Giuseppe Conte per il capo politico dei 5 Stelle la riforma in senso presidenzialistico della Costituzione di cui parla Berlusconi prefigura l'accordo spartitorio con Meloni e Salvini dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella scrive su Twitter calenda di azione Berlusconi non è più in sé con il presidenzialismo il centrodestra vuole destabilizzare il paese e buttare giù Mattarella dice anche il ministro degli esteri Di Maio di impegno civico mentre il titolare della Salute Speranza aggiunge l'obiettivo della destra è chiaro ed eversivo portare l'idea di un uomo solo al comando dentro la Costituzione non basta la precisazione di Berlusconi affermare l'ondata di polemiche che lo travolgono dalla sinistra molta ignoranza e malafede attacca l'Azzurro Mulè sottosegretario alla difesa a difesa del Cavaliere la fedelissima Alicia Oronzulli Letta non perde occasione per tacere afferma la senatrice di Forza Italia le sue parole sono state strumentalizzate solo per gridare alla destra eversiva intanto oggi a Viminale le formazioni politiche hanno cominciato a depositare i propri contrassegni poi nei prossimi giorni invece bisognerà definire i nomi dei candidati la scadenza è per il 21 agosto questo è uno scoglio piuttosto difficile perché con la riforma costituzionale a questo punto gli scranni i posti in Parlamento a disposizione sono sensibilmente diminuiti e ci potrebbero essere anche degli esclusi illustri ci sono anche i gilet arancioni ci sono i poeti d'azione c'è un non meglio identificato naturalismo ci sono i nostalgici del partito comunista e di quello liberale per non parlare del sacro romano impero cattolico e pacifista al Viminale da stamattina per la presentazione dei simboli elettorali ce n'è per tutti i gusti compresi i due presentati ieri quello del PD qui è stato aggiunto democratici e progressisti e quello di noi moderati ennesima entrata in un centro mai parcio così ingolfato come stavolta con rivendicazioni annesse e connesse si va dal prevedibile Mastella io sono l'ultimo erede della prima repubblica dice diversamente da Carlo Calenda o Matteo Renzi che sono addirittura macroniani altra cosa rispetto all'ADC a chi nel PD si ritrova ora dalla parte opposta del duo Calenda Renzi come Nardella i moderati e i riformisti li rappresenteremo noi del PD o del Rio che a proposito del leader di azione parla di scelta sbagliata sarebbe stato meglio stare insieme e vincere insieme una campagna elettorale che dire agitate e dire poco niente però in confronto a quel che saranno i prossimi 10 giorni di qui a lunedì 22 agosto quando ad essere depositate dovranno essere le liste con tutti i candidati che si annunciano particolarmente infuocati a causa come noto della riduzione di un terzo dei parlamentari con i sondaggisti scatenati e le segreterie di partito assediate per la caccia ai famosi collegi sicuri in tutto in tutto sono 148 alla camera e 74 al senato con il centro-destra dato da tutti in vantaggio ma prima ancora per un posto in prima fila blindato cioè negli ambitissimi listini bloccati del proporzionale una campagna elettorale faticosamente stabilizzatasi dopo l'ennesima inversione di marcia di calenda uno che la neo-alleanza con Renzi raggiunta dopo 14 ore di verifica finale sui testi lei illustra così noi rappresentiamo proponendo un nuovo governo Draghi l'antidoto al caos come Renzi anche lui pronto a moltiplicarsi su fronte uninominale o come lo stesso Conte del resto bersagliato da Di Maio quasi quanto letta da Renzi alle prese con una difficoltà in più quella di far sopravvivere le parlamentarie per i 5 Stelle che secondo il presidente della Camera FICO tagliato fuori per via della regola dei due mandati hanno il 10% come obiettivo abbondantemente superabile perché spiega il movimento dopo tante uscite è più unito e più netto nei contenuti e dopo il 25 settembre il nuovo governo quale che sia dovrà occuparsi di uno scenario economico e geopolitico davvero molto difficile in Ucraina si continua a combattere e cresce di giorno in giorno la preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizia il sito di Zaporizia è costantemente monitorato in base alle ultime informazioni raccolte non esiste una minaccia nucleare provocata da bombardamenti o da altre azioni militari ma tutto può cambiare in ogni istante chiedo ad entrambe le parti di fermare qualsiasi azione militare e di permettere un'ispezione nella centrale nucleare il prima possibile per Raffaele Grassi comunque il tempo stringe il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiesto ieri dalla Russia ha riproposto uno scenario dove Russia ed Ucraina si rimpallano accuse e responsabilità per la crisi in corso sia Mosca che Kiev dicono sì alla missione a IEA Zaporizia dove per il presidente ucraino Zelensky la Russia ha toccato il fondo mai nessuno dice Zelensky ha minacciato in questo modo il mondo intero usando il ricatto nucleare l'ambasciatore russo a Palazzo di Vetro descrive una realtà completamente diversa dove è l'Ucraina a tenere in scacco la comunità internazionale perché mai chiede Vassili in Ebienza dovremmo bombardare un obiettivo tanto delicato quando già è sotto il nostro controllo per gli americani i problemi alla centrale nucleare Ucraina sarebbero causati dalla presenza illegale nel sito dei soldati russi a quanto dichiarato in questi mesi di guerra dagli ucraini non in grado di gestire la più grande centrale atomica d'Europa accusa che Mosca rimanda al mittente attraverso il vice presidente del senato Kozachov in queste ore un altro politico russo il senatore Zabarov apre all'ipotesi di smilitarizzare l'intera area del sito nucleare di Zaporizia se Kiev accetta un'idea simile si può trattare dice il russo poco fa Mosca è tornata ad accusare Kiev di aver lanciato un colpo di artiglieria in mattinata verso la centrale colpo caduto a pochi metri da un altro sito di stoccaggio Scorie sul campo i russi sembrano aver raddoppiato negli ultimi giorni il numero di raid aerei di attacchi di artiglieria verso il Donbass versione daniesca e ancora società quali Khashiv Kherson Mikolaev e appunto Zaporizia gli ucraini hanno armi nuove più pesanti l'ultimo carico di lanciarazzi M270 è arrivato nella notte dal Regno Unito ora il 98% della popolazione ucraina crede sempre più nella possibilità di sconfiggere l'armata russa a Mosca la crisi scatenata dalle sanzioni occidentali inizia a sentirsi il mercato azionario in questi mesi ha perso oltre un terzo del suo valore l'inflazione è al 20% e nelle prossime settimane l'import russo potrebbe registrare una diminuzione del 40% un tema quello del nucleare è d'attualità anche negli Stati Uniti d'America perché solo ora si è saputo che l'FBI durante quella perquisizione nella abitazione in Florida dell'ex presidente Donald Trump stava cercando dei documenti su armi atomiche Donald Trump ha detto sì si può rendere pubblico il mandato di perquisizione dell'FBI di lunedì scorso della sua residenza a Mara Lago in Florida poco prima era stato il procuratore generale ministro della giustizia Merrick Garland a spiegare dopo tre giorni di silenzio di aver autorizzato personalmente la perquisizione e di aver chiesto al giudice federale la pubblicazione del mandato malgrado normalmente sia confidenziale per fare chiarezza dopo le accuse di Trump di fare un uso politico della giustizia per una caccia alle streghe contro di lui dinanzi ad attacchi ingiustificati alle istituzioni non ho potuto tacere agenti e funzionari del dipartimento di giustizia sono stati attaccati ingiustamente sono patrioti che si sacrificano per il bene del paese ha chiarito il ministro riferendosi agli attacchi di cui il bureau e l'amministrazione sono stati oggetto in questi giorni ultimo quello di ieri in Ohio nel quale un sostenitore di Trump vicino ai gruppi estremisti che hanno partecipato all'assalto di Capitol Hill ha tentato di fare irruzione nella sede dell'FBI a Cincinnati armato di pistola e fucile per poi rimanere ucciso dagli agenti colpito dopo un lungo inseguimento il giudice deciderà nelle prossime ore se pubblicare o meno il mandato conoscere il testo diventa cruciale perché descriverebbe il materiale di cui gli agenti dell'FBI erano a caccia e indicherebbe di quali crimini sarebbe accusato Trump quello che si sa è che a fare scattare l'operazione sembra sia stata una soffiata all'FBI che l'ex presidente continuasse a nascondere documenti ufficiali classificati nella sua residenza secondo il Washington Post che cita fonti vicine all'indagine si tratterebbero i documenti legati alle armi nucleari e quindi top secret non è ancora chiaro se le informazioni siano relative ad armi nucleari in possesso degli Stati Uniti o di altre potenze straniere né se questo materiale sia stato effettivamente ritrovato a casa di Trump se le indiscrezioni del poste si rivelassero vere la situazione di Trump si complicerebbe visto che l'accesso ai documenti sulle armi nucleari è limitato a pochissimi funzionari governativi e la loro diffusione metterebbe a rischio la sicurezza nazionale americana concedendo vantaggi alle altre potenze ecco spiegata l'urgenza dell'intervento degli agenti federali e la preoccupazione che i documenti conservati a Maralago potessero finire in mani sbagliate ora torniamo a parlare di un problema economico del nostro paese dell'Italia quello delle aggregazioni bancarie che negli ultimi anni hanno portato a perdita di lavoro prepensionamenti ma anche ad un vero e proprio cambiamento del tessuto sociale dei comuni allora vediamo nel nostro servizio perché la desertificazione in Italia non riguarda solo l'ambiente ma anche i servizi bancari secondo l'ultimo rapporto di Fabi la federazione autonoma bancari italiani nel nostro paese sarebbero circa 4 milioni cittadini senza banca nel proprio comune di residenza per un totale di 3000 comuni sprovvisti di filiali un fenomeno dilagante che spacca in due lo stivale al sud e nelle isole infatti oltre il 10% della popolazione non ha una banca vicino casa con la campania che raggiunge la cifra record di 700 mila cittadini senza una filiale di riferimento al nord il Piemonte fa da fanalino di coda in termini assoluti è infatti la regione con il maggior numero di comuni senza banche un problema che tocca oltre mezzo milione di piemontesi con chiusure indiscriminate e un progressivo disimpegno sui territori ha commentato il segretario generale della Fabi Sileoni le banche stanno perdendo il loro ruolo sociale soprattutto si rischia di abbandonare a se stessa un'ampia fetta di popolazione quella più anziana infatti nel nostro paese la chiusura in meno di 10 anni di più di 11.000 sportelli circa il 34% non è stata compensata come nel resto d'Europa da un progressivo aumento dell'utilizzo dei servizi bancari digitali rispetto alla media europea in Italia è ancora scarso il ricorso alla banca online che viene scelta solo dal 45% dei cittadini poca cosa rispetto al 96% della Norvegia o al 72% della Francia anche la Turchia fa meglio di noi con il 46% della popolazione che accede alle piattaforme bancarie online se l'internet banking ha nel nostro paese una diffusione che non arriva nemmeno a metà della popolazione lo si deve sia a ragioni anagrafiche sia a una scarsa copertura della rete internet sul territorio nazionale un limite che il PNRR dovrebbe colmare ora dobbiamo parlare del maltempo perché c'è ancora una forte allerta in diverse zone del sud Italia ci sono la Sicilia la Sardegna e anche la Calabria ma le immagini che forse fanno più male in queste ore ci arrivano da Stromboli dalle Olie l'isola siciliana dove a causa di un incendio nei mesi scorsi durante le riprese di una fiction televisiva le piogge ora si sono trasformate in alluvione è stata una notte difficile così come il risveglio per l'isola di Stromboli nell'arcipelago delle Olie in Sicilia un nubifragio fango e detriti strade case e alberghi allagati e danni in tutta l'isola ha piovuto per molte ore qui la montagna è quasi totalmente priva di vegetazione l'incendio dello scorso 25 maggio durante le riprese di una fiction tv aveva già devastato gran parte della macchia mediterranea quello di oggi era un disastro evitabile ha detto il sindaco di Lipari Riccardo Gullo dovuto alla mancanza di vegetazione che non ha impedito che il flusso d'acqua scendesse a valle invadendo l'isola chi ha sbagliato deve pagare rabbia espressa anche delle associazioni turistiche che hanno denunciato la situazione di abbandono in cui è stata lasciata la montagna di Stromboli in queste ore i vigili del fuoco e i volontari stanno pulendo le strade e le case dal fango una cinquantina di persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni perché inagibili la protezione civile aveva diramato un'allerta gialla in cinque regioni da questa mattina nuovo avviso di criticità in Campania e il maltempo imperversa in tutto il sud Italia vento e forti temporali hanno creato disagio anche a Scilla sul litorale tirrenico della Calabria dove l'acqua ha invaso le strade trascinando auto e detriti arrivando a distruggere il piccolo borgo che si affaccia sulla costa viola non va meglio nel sud della Sardegna dove in un'ora sono caduti 72 mm di pioggia provocando allagamenti e caduta di alberi che hanno paralizzato il traffico particolarmente colpiti comuni di Assemini e Pirri al nord una situazione critica si è verificata a Iesolo dove una mareggiata fuoristagione ha generato uno scalino arrivato a 80 cm sulla battigia della spiaggia a cui consigliere lacustri inquinate o fortemente inquinate questo è il risultato del monitoraggio di Goletta Verde di Lega Ambiente che riguarda 18 regioni e 37 laghi italiani il 32% dei campioni analizzati è il risultato oltre i limiti di legge quasi un campione su tre tra mala depurazione e scarichi abusivi il 55% dei punti critici si concentra in foci di fiumi canali e torrenti poco o nulla è stato fatto spiega Lega Ambiente per uscire dall'emergenza depurativa che ci costerà centinaia di milioni di euro nei prossimi anni a causa delle multe che l'Europa ci farà pagare il rapporto Goletta Verde è stata anche l'occasione per affrontare il tema della siccità per cui servono una strategia nazionale nuove misure per ridurre la domanda di acqua ed evitare così gli sprechi ora la cronaca giudiziaria perché ci sarà un processo a dicembre per le due persone arrestate ieri a Roma perché ritenute coinvolte in un tentativo di rapina ai danni forse di due istituti bancari attraverso la creazione di un tunnel sotterraneo mentre è uscito dall'ospedale un terzo uomo che era rimasto incastrato sottoterra sarà dimesso oggi dall'ospedale San Camillo di Roma l'uomo messo in salvo ieri sera dai vigili del fuoco in una traversa di via Gregorio undicesimo nel centro della capitale era precipitato in una voragine di sei metri mentre scavava abusivamente un tunnel sotterraneo a due passi dalle mura aureliane l'ipotesi investigativa è che la galleria sarebbe dovuta servire a compiere una rapina forse in una vicina banca sono servite otto ore di lavoro per tirar fuori dalle macerie il 35enne romano ora denunciato per danneggiamento e crollo colposo così come le altre tre persone che ieri sono state fermate dai carabinieri nella zona del cantiere abusivo tra cui un trentenne romano che aveva chiamato i soccorsi nell'udienza per direttissima stamattina il giudice ha convalidato l'arresto nei confronti di due napoletani di 46 e 57 anni ieri finiti in manette per resistenza pubblico ufficiale oggi davanti al GIP i due si sono dichiarati estranei ai fatti hanno raccontato di essere passati in macchina vicino a un cantiere in cui avevano sentito un ragazzo chiedere aiuto ma di essere poi fuggiti per paura avendo entrambi i precedenti penali il processo è stato fissato per il prossimo 20 dicembre gli indagati sono stati rimessi in libertà una delle piste al vaglio degli inquirenti è che in azione sotto il manto stradale ci fosse una sorta di banda del buco e che i quattro forse anche con l'aiuto di basisti o altri complici stessero realizzando una galleria sotterranea per mettere a segno nei prossimi giorni il colpo di ferragosto approfittando della città deserta il punto di partenza del piano sarebbe stato proprio un locale sfitto in via Gregorio XI un cunicolo di 5 metri scavato tra parete e pavimento avrebbe dovuto condurre i presunti ladri nelle fognature attraverso quei condotti poi la banda sarebbe dovuta strisciare fino al cavò di una delle due banche della zona o in altri locali finiti nel mirino ma il piano ieri è miseramente fallito a un certo punto durante gli scavi sotterranei l'asfalto ha ceduto e il tunnel è franato così come forse il progetto della banda del buco arresti domiciliari per presunta corruzione sono stati stabiliti per un primario di cardiochirurgia del Policlinico di Catania si chiama Carmelo Mignosa a 61 anni la misura cautelare richiesta dal PM Fabio Regolo è stata firmata dal GIP del Tribunale l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza riguarda l'appalto per la fornitura di materiale specialistico per il reparto di cardiochirurgia del Policlinico bandito nel marzo scorso con una base d'asta di 17 milioni in questo video girato da una telecamera nello studio del professionista sarebbe documentato il passaggio di una tangente per favorire l'assegnazione della gara l'intervento delle fiamme gialle ecco vedete proprio qui nelle immagini il denaro è avvenuto all'inizio del mese di agosto non appena sono state aperte le buste con le offerte per i 122 lotti ora c'è la nostra pagina sportiva con gli europei di nuoto che sono in corso a Roma al foro italico grande esordio per gli azzurri che hanno conquistato un oro due argenti e un bronzo il volto felice di Alberto Razzetti che per l'occasione ha scelto scarpe tricolori il pubblico romano che accompagna l'inno di Mameli battendo le mani è questa l'immagine del primo giorno degli europei di nuoto un oro due argenti e un bronzo siamo già primi nel medaliere l'oro ed Alberto Razzetti ha appunto conquistato nei 400 misti la specialità che unisce tutti gli stili delfino d'orso rana e stile libero a 23 anni il suo soprannome è Razzo non solo perché è il diminutivo del cognome ma anche perché racconta l'essenza di Alberto è vero amo la velocità ho sempre avuto un debole per la Ferrari e per Valentino Rossi ha raccontato Razzetti dopo la vittoria strano per un nuotatore perché se c'è uno sport che è l'elogio della lentezza questo è il nuoto un esercizio di profonda solitudine e segreto dolore ore e ore a guardare una riga nera nel fondo della piscina anni e anni così si comincia da bambini Alberto ha iniziato nuotando nel mare Ligure di Sestri Levante emigrato due anni fa a Livorno qui l'incontro con Stefano Franceschi e sua l'intuizione di cambiare e provare i 400 misti Alberto studia ingegneria Andrea Matteazzi che ha ottenuto il bronzo nella stessa gara quando non nuota lavora invece nell'azienda agricola di famiglia a Vicenza città diverse regioni diverse età diverse percorsi diversi tante italie e alla fine una soltanto prendete la staffetta che ha conquistato l'argento nella 4x200 stile libero Marco De Tuglio è un pugliese di 21 anni Lorenzo Galossi appena 16 anni è romano poi c'è il veterano Gabriele Detti Livornese di 27 anni e Stefano Di Colav di 23 anni di San Benedetto del Tronto meglio di loro solo gli ungheresi a conquistare l'altro argento sono state le ragazze del nuoto sincronizzato sul gradino più alto sono salite le Ucraine che hanno ringraziato l'Italia per averle accolte nel centro federale di Ostia dopo lo scoppio della guerra hanno dedicato la vittoria al loro paese sarà pure scontato ma dirlo aiuta a riempire il cuore nel pomeriggio tocca a Margherita Pansiera nei 200 d'orso Thomas Ceccon nei 100 stile libero Niccolò Martinenghi nei 100 rani e Simona Quadarella negli 800 stile libero altra gloria in arrivo proseguiamo con il calcio perché domani comincia il campionato di Serie A Il Milan inizia contro l'Udinese di Sottile l'avventura per difendere il tricolore cucito sul petto per qualche ora il mercato viene messo in un angolo anche perché De Ketlar era la priorità meno reclamizzato Orighi la fisionomia della squadra c'è poi si vedrà come sostituire che sì contro i friulani non ci sarà tornare infortunato difficile Giroud come titolare più probabile Rebic sabato di rebuto anche per l'Inter di scena e trasferta contro il neopromosso Lecce e i Baroni all'ombra del ritorno clamoroso di Lukaku che comporterà movimenti diversi per Inzaghi ci sono innesti giovani come Aslani e Bellanova e cacciatori di esperienza come Mkhitaryan e il portiere Onana Gosens non è ancora all'altezza di Perisic la difesa ha scricchiolato negli amichevoli subendo troppi gol e c'è sempre la paura di perdere la scena se il Paris Saint Germain decide di affondare nel sabato della Serie A altre due partite Sampdoria-Atalanta con Gasperini che per ora boccia il mercato insufficiente con Ocoli Ederson e Lockman positivo alle controanalisi Palomino sta facendo faville nel mercato il Monza che affronta il Torino Petagni all'ultimo colpo di Galliani che va sul sicuro con Cragno difensori Carboni Ranocchia Pablo Marì e Marlon Sensi Pessina e il fantasista Caprari tra domenica e lunedì scenderanno in campo formazioni intorno alle quali ci sono aspettative ma anche scetticismo a Salerno ci sarà il primo ciacca della nuova Roma che secondo molti critici potrebbe essere la grande variabile per lo scudetto Borigno ha molte opzioni per i suoi schemi di gioco curiosità per vedere insieme Dybala e Zaniolo alle spalle di Abram Matici è già un leader e si aspetta l'inserimento di Wijnaldum la precarietà è una brutta compagna per Spalletti che in attesa di Raspadori e Simeone prepara la gara di Verona con molte incognite a partire dal coreano Kim che raccoglie l'eredità di Koulibaly para adossare la situazione portieri preso Sirigu ma giocherà all'epurato Meret mentre si accelera per Keylor Navas a Ferragosto esordio contro il Sassuolo anche per la Juventus che è ancora un cantiere aperto Kostic mentre con Rabiot squalificato un centrocampo di basso profilo con Zaccaria Locatelli e Fagioni e concludiamo con una notizia triste giunta poco fa la morte di un grande ex portiere che si è spento a 67 anni Claudio Garella protagonista negli anni 80 nel Verona prima e nel Napoli poi con i Veneti allora guidati da Osvaldo Bagnoli conquistò lo Scudetto nel 1985 due anni dopo il bis con il Napoli di Diego Maradona cresciuto nelle giovanili del Torino Garella ha anche giocato con Lazio Sampdoria e Udinese prima di chiudere la carriera all'Avellino ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ritorno vedremo eventuali aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora in questi pochi minuti non sono arrivati degli aggiornamenti significativi delle notizie dunque il nostro telegiornale finisce ora le 14.03 minuti vi ringrazio ancora per essere stati con noi vi auguro un buon pomeriggio l'informazione torna alle 20 e voi se vorrete ci rivediamo domani arrivederci grazie a tutti